Qui in Lo Hacker da cent'anni siamo buoni, ma a modo nostro. Alle cose fatte così così, preferiamo quelle fatte così. Non sopportiamo le cose finte, preferiamo quelle naturali. E pazienza se a volte sembriamo un po' quadratini. Con quello sforzo in più, tutto ha un altro sapore, come quello dei nostri buffer. Friabili, golosi, inimitabili. Perché la bontà, la nostra bontà, è una scelta ribelle. Dal 1925, Lo Hacker. Che bontà! Che bontà!